Gli artisti di oggi hanno una grande sfortuna che in questo momento le vere rockstar sono gli imprenditori e non gli artisti e quella è la differenza. Noi dovevamo andare a convincere un discografico di non mettere quello che per lui era il singolo più brecchiabile noi volevamo mettere il pezzo invece più rappresentativo, quello più complicato, quello difficile e litigavamo per farlo. Oggi gli artisti si approcciano alla discografia volendo già da subito entrare perché sono nati e cresciuti con l'idea dell'imprenditoria, quella è la differenza perché poi questa cosa qui se sei un artista soffri, tu non lo sai perché ma poi dopo ti tocca prendere le goccette per dormire capito e quello è il casino grosso.